Qualche frutto positivo lo ha prodotto anche il lockdown con conseguente necessità di interagire per le azioni che non si potevano rimandare e la progressiva informatizzazione di numerosi servizi. Anche l'attività dei farmacisti ha subito un'accelerazione digitale attraverso la ricetta dematerializzata. Il paziente, anche semplicemente col telefonino, riceve dal proprio medico di famiglia un codice che presentato al farmacista consente di avere il medicinale necessario con tempi di attesa molto più leggeri. I tempi di attesa sono molto più leggeri e il paziente non deve neanche spostarsi da casa o solo può venire in farmacia a ritirare il farmaco o mandare anche qualcuno. Quindi meno assembramenti, meno affollamenti e più scioltezza nel lavoro. Nel caso della farmacia Monteverde di Chiavari questa esigenza emergente conseguente alle misure anticontagio è coincisa con l'attivazione di un magazzino robotizzato che gestisce autonomamente i farmaci dalla distribuzione intermedia a quella al minuto. Si rovescia praticamente il contenitore della cassa dei farmaci in un carrello e il robot scannerizza la scatola sui quattro lati guardando scadenza, lotto e nome del farmaco e lo sistema appositamente sui suoi ripiani. Tutto questo porta a un'efficienza maggiore e il tempo che prima impiegavamo per prendere il farmaco, per controllare la spunta della bolla, per sistemarlo negli scaffali e poi per andarlo a prendere quando il cliente era al banco, adesso viene dedicato alla consulenza. L'incremento degli strumenti informatici ha permesso ai farmacisti di affrontare la fase 2 con maggiore serenità. Dopo un primo periodo di ansia e di giorni molto difficili, ora siamo molto più tranquilli, il lavoro in farmacia è più sicuro, è assolutamente più veloce e anche più sereno.